a riechece rieccoci qua parliamo come avevo detto parliamo di serie b anticipo deve ancora giocarsi terrana bari gara molto importante per il bari devo dire anticipo il video sulla serie b anche per per non starmi a ingolfare di contenuti domani dopodomani con la formula 1 con inter juve barça real roma lazio ajax fire nord la serie c insomma ragazzi carne al fuoco ce n'è veramente tanta ma davvero tanta ce n'è allora parliamo di serie b cosa è successo fra ieri sera oggi pomeriggio è successo signori che il primo posto non è più così blindato il primo posto del frosinone intendo il cosenza oggi ha fatto una grandissima impresa ha giocato direi bene ha giocato io stavo facendo tapirulante mentre guardavo la serie b grandissimo gol di questo ragazzo di cui mi sfugge il nome che ha già il secondo gol di fila in pieno recupero una vittoria di capitale importanza per il cosenza capitale importante perché oggi si giocavano due testa a coda mica da ridere frosinone cosenza e e breccia genoa io in settimana ho detto occhio che breccia per il genoa può essere una trasferta al rischio in effetti nel primo tempo il breccia della giocata poi signori questo genoa oramai ha preso il passo da serie a queste le classiche partite che vinci in contropiede rischiando relativamente poco anche se breccia sarebbe giocata ora il genoa è a soli cinque punti dal frosinone e con il bari che gioca a terni una trasferta difficile la trasferta difficile perché il signor bandecchia ha finito con richiamare lucarelli solo che non so come interpretarla questa sfida perché la ternana a ternana deve far punti deve far punti perché attenzione per come corrono dietro squadre come ternana scoli modena devono un po iniziare a guardarsi dietro perché diventa fastidiosa la situazione poi considerate anche che terni per il bari è sempre stato un campo fastidioso fastidioso calcolate che lucarelli penso sia molto legato ai suoi calciatori io ancora non mi capacito come è stato possibile mandarlo via non mi capacito ma il presidente della ternana un po un po così e il bari se vuole ancora coltivare ambizioni di promozione diretta deve vincere per forza perché oramai il genoa non perde più un colpo qualche colpo lo sta perdendo il frosinone però il frosinone capirete che ha un tale vantaggio che penso che sia difficile un un bari che lo arrivi a insidiare e poi c'è da segnalare questa vittoria un altro testa coda su tirol battespa 2 a 0 doppietta del suo difensore centrale talezzaro faro che tacchio si chiama lui e la spalla adesso è davvero davvero inguaiata davvero inguaiata cioè ragazzi al momento al momento finirebbero in c retrocessione diretta rischiano seriamente la retrocessione diretta tre squadre che non più tardi di due o tre anni fa erano in serie a cioè raga il benevento due anni fa era in a venne a vincere a torino con gol di gai con il mitico passaggio di artura poi ne parliamo di arture in separata sede la spalla il brescia erano in a l'anno del covid retrocessione insieme a lecce quell'anno lì erano in a film praticamente fino a all'agosto del 2020 spalla e brescia adesso sono ultime in classifica e quasi destinate alla serie c praticamente raga rischiamo di avere retrocessioni davvero illustri se consideriamo anche che il cosenza che ha vinto a frosinone ora è un solo punto dal perugia che però una partita da recuperare con la regina e che per me con la regina attuale può vincere tranquillamente bella vittoria da oggi a cittadella bella vittoria raga lo dissi castori castori è un allenatore di categoria di quelli che ti fanno ottenere risultati e rischia il venezia seppur ha vinto a ascoli il venezia anche lui ha in recupero il venezia può rischia di essere la quarta nobile decaduta di questo campionato di questo passo raga ma voi immaginate finiscono in c venezia benevento spalla e spalla e l'altra era e breccia cioè il venezia era in ala l'anno scorso il benevento due anni fa due anni fa e due anni e mezzo fa spalla e e breccia c'è una roba del genere per tornare a retrocesse tanti illustri sono ancora potenziali retrocesse tanti illustri bisogna tornare indietro all'anno del milan in b quando retrocesso il vicenza e l'atalanta in serie c e il monza che fino all'anno prima lottava per la serie a monza taranto bisogna tornare al primo anno di b del milan per avere anche agli anni di b del milan perché una volta retrocesse bari bologna foggia questo per dirvi che paradossalmente la separazione della lega di serie a da quella di serie b ha fatto più bene alla serie b che a quella di serie a che che ne dicano gli aedi e su questo ci torno su questo stavolta sono d'accordissimo con le lea dani d'accordissimo con le lea dani su quando ha detto la bobo tv sono d'accordissimo con la dania adesso a proposito della serie a delle coppe tutto il resto poi tornando alla serie b di quest'anno c'è da parlare della zona playoff dove si comincia veramente a delineare il quadro noi abbiamo al momento bari su tirol terza e quarta dalla terza all'ottava fanno i playoff bari su tirol terza e quarta poi abbiamo cagliari e pisa cagliari 4 a 0 la regina in scioltezza la regina ormai in caduta libera secondo me è riuscita a salvarsi con quel gran girone d'andata e basta perché sembrano veramente crollare quelli della regina partita dopo partita c'è una nel girone di ritorno c'è una squadra che era seconda al girone d'andata cioè adesso è praticamente a una media da retrocessione la regina fra una media la promozione diretta al girone d'andata alla media retrocessione del ritorno fa una salvezza tranquilla a conti fatti cagliari e pisa oramai il pisa 2 a 0 al benevento il cagliari 4 a 0 al regio era inevitabile che venissero fuori io qualcuno ve l'aveva detto quando il cagliari era a 7 8 punti dalla zona playoff adesso è quinto adesso è quinto e per me la grande favorita nei playoff il cagliari la grande favorita dei playoff e il pisa che io dicevo che sarebbe risalito quando era in piena zona retrocessione il pisa ricordate quando lo dicevo perché a conti fatti fu un errore lasciare andare via d'angelo che era l'allenatore adatto per quella squadra lì e poi ci sono da assegnare questi altri due posti dove ci sono parma palermo e per l'appunto regina ora con la regina in caduta libera è inevitabile che farò il pronostico per gli ultimi due posti playoff sono per parma e palermo potremmo vedere paradossalmente le due squadre meno accreditate alla vigilia di questo campionato in zona playoff con la classifica migliore cioè che saltano il primo turno praticamente di playoff e poi potremmo avere un primo turno di playoff con cagliari pisa parma e palermo ragazzi non è una mezza serie a questa ditemi voi è un quadro che somiglia molto a quello della serie c secondo me i playoff saranno uno spettacolo allucinante quest'anno comunque detto ciò vi invito a iscrivervi al canale naturalmente mi sa che giocano domani terraneo e bari che giornata domani è più tardi farò vedrò di fare un altro video figici uefa fifa no non c'entra la juve stavolta è non c'entra la juve stavolta perché ci sono state grosse novità a tutti i livelli iscrivetevi al canale